Punti tampone a Como cala la domanda e l'attività si riorganizza da lunedì 14 febbraio. L'offerta per il territorio lariano, che ha garantito fino a 13.000 tamponi settimanali, manterrà il servizio in tutti i punti tampone, assicurando lo stesso numero di linee e le sedi di erogazione, ma riducendo gli orari di apertura. A Como sarà possibile effettuare tamponi in via Napoleona dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 9.30. Anche in via Castelnuovo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30 e ancora il sabato e la domenica dalle 8 alle 12. A Cantù in via Caduti di Nasseria sarà possibile effettuare i test dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 13.30. All'ospedale Erba Renaldi di Menaggio dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12.00 e infine al Giatecomasco in piazza Mercato esclusivamente nella giornata di martedì dalle 14.30 alle 16.00. In tutti i punti tamponi il test viene eseguito dal personale in modalità drive-thru e pertanto è obbligatorio presentarsi in auto. Il cittadino inoltre deve essere munito di mascherina, documento di identità, tessera sanitaria e la ricetta o il provvedimento rilasciato dal medico, dal pediatra o dall'ATS. Per le persone fragili è inoltre prevista la possibilità di effettuare dei tamponi salivari. I punti tampone di ASST Lariana dove è possibile effettuare i test salivari sono a Cantù, in via Caduti di Nasseria, a Como, sia in via Castelnuovo che in via Napoleona e a Menaggio nel tendone allestito nel parco dell'ospedale. Anche in questo caso il test viene eseguito dal personale in modalità drive-thru ed è pertanto obbligatorio presentarsi in auto. Anche in questo caso il test viene eseguito dal personale in modalità drive-thru ed è un'acquesta.